Ciao, mi chiamo Martina, sono un'attrice. Sono nata all'Aquila, classe 81, vivo a Roma, città chiamo. Inizio la mia formazione dal teatro e completo la mia formazione dopo un percorso di studi biennale presso la scuola professionale di recitazione Padiglione Ludwig di Roma. Devo dire che ho molte passioni e esprimervele così poco tempo non è così semplice. Sono laureata, sono coetessa e il mio animo è romantico, sono anche determinata e quando sono in vena, molto simpatica, sono rappresentata dalla cantera management, queste sono le mie mani e i miei profili. Ciao!